Ciao amici di Addicted2Games e bentornati in questo nuovo video Io sono Michele e oggi giochiamo a Garbage Day, ovvero giornata spazzatura Un gioco che ho conosciuto tramite il canale Yotobi Games di Yotobi Uno youtuber che io seguo tantissimo, mi piace molto Allora, iniziamo, è disponibile in accesso anticipato su Steam a 15€ C'è solo la modalità sandbox al momento, la modalità storia arriverà più avanti In un futuro non precisato Allora, il gioco ha veramente un potenziale grandissimo Anche se al momento è molto limitato È sviluppato con la Real Engine 4 Quindi graficamente, anche se lo stile è un po' così, è interessante Abbiamo la nostra mano, fantastica Possiamo interagire con quasi ogni oggetto che troviamo nello scenario Usciamo sul balcone, dice una macchina, un passante Ciao passante Allora, possiamo effettuare la slow motion con il tasto V Iniziare una nuova partita con il tasto O Vediamo che altri comandi abbiamo ragazzi Con il tasto Q facciamo questa cosa Non so a che serva Allora, la polizia è tranquilla Non abbiamo commesso nessun reato per ora Abbiamo 20 dollari e 54 centesimi La nostra vita è al massimo Prendiamo il telefono Buttiamolo E andiamo ragazzi Vediamo che possiamo raccogliere una ciambella Non ci serve Oh, un po' di soldi Questi li prendiamo Oh mio dio La cosa bella è che è possibile interagire veramente con qualsiasi cosa nello scenario Buttiamola giù dalla finestra Via Un gioco che si è sviluppato bene Sarà veramente molto molto interessante ragazzuoli Ecco la nostra cucina Il nostro frigorifero Comprare il latte Vediamo cosa abbiamo È vuoto ragazzi Cavolo Facciamo una bella colazione Wow, istantanea Gnam gnam Abbiamo vari oggetti Il lavandino Il forno a microonde Inserire La cassetta Nel VCR Per iniziare Oddio Cos'è sta musica Un po' di libri Oddio Usciamo ragazzi Vediamo che ci aspetta fuori Eccoci Nel magico mondo di Carbash Spero si pronunci così Qui abbiamo varie armi messe a disposizione Allora Prendiamoci magari La katana Ciao Oh è armato È un poliziotto Uh Muori Vediamo Lo slow motion E nel tasto V Vieni qua Schwam Ho 25 di vita Sono per morire Non voglio morire Non voglio morire Altri poliziotti E siamo morti Ragazzi Bene Il gioco È questo È un sandbox È molto divertente Rispetto ad altri sandbox Come God Simulator Per fare un esempio Ragazzi Vediamo Che altro possiamo fare Evitiamo Di prendere armi Per ora Oppure prendiamo Un fucile Lo prendiamo dopo Lo usiamo dopo E c'è una guardia Allora Entriamo in questa casa È permesso Non c'è nessuno C'è un fuocherello Un po' di animali Usciamo Vediamo se si può guidare Oh Fantastico Andiamo va Oddio Come slitta Ma perché la gente Sta in mezzo alla strada Invece di stare Sui marciapiedi Non lo capisco Un po' di negozi Passiamo prima Allo shop Compriamo un po' di latte Fermiamoci qua Parcheggio perfetto Wow Cosa possiamo prendere Di bello Un po' di latte Posso pagartelo Posso prendere i soldi Grazie Mettiamolo sulla macchina Oddio Servirebbe uno zaino In effetti Vediamo che altro Vediamo che altro abbiamo Apriamo la porta Ordina qui Ciambelle Wow ragazzi Una bella buffata Shop di armi Vediamo cos'hanno Ciao È vuoto Che cavolo di shop è Andiamo al gas Oddio Credo di poter rispondere Con precisione A questa domanda Se desidera Posso effettuare Una ricerca Ora vorrei capire Perché mi si è attivata Cortana Sul tablet Questi ragazzi Sono i misteri Della vita Sono i misteri Dell'uno e mezzo Di notte I fantasmi Ovviamente esistono Bello Il gas La stazione della benzina Vuota Ovviamente Va bene Dai Vediamo dove altro Possiamo andare Di bello Di qua Penso che Non si possa Andare E infatti Andiamo a sbattere Che altri edifici Ci sono C'è questa struttura Un'azienda Parcheggiamo qua Entriamo Buonasera Chiamiamo l'ascensore Andiamo All'ultimo piano La musica È ipnotica Siamo già arrivati? Salve Che sta scritto qui? Non dimenticare Che tu Sei qui Per sempre Wow Togliamo la sedia Il nostro bel pc Che altro abbiamo Di qua Oddio È finita la musichetta Oh Ah ma si cade Sono vivo ragazzi Sono rimbalzato Sull'auto Fantastico Dai Andiamocene Torniamo a casa Oddio La polizia Ragazzi La polizia Mi vuole uccidere Ma sono scoppiati tutti Che cavolo è successo Prendiamo un'arma Prendiamo un'arma Il mitra Fatevi sotto Dove siete? Penso di aver ammazzato tutti No Tu sei vivo Muori Vuoi anche tu Chi mi vuole affrontare? Bene amici Questo Era un simpatico video Su Guard Mesh Day Un sandbox Ancora In pieno sviluppo Ma che mostra Un potenziale Veramente Immenso Voi ragazzi Cosa ne pensate? Lasciatemi un bel like Se il video vi è piaciuto Commentate Condividete Nei vostri amici Passate anche da facebook Ragazzi Link qui sotto In descrizione Passate anche magari Dal canale di youtube Youtube games Se non lo conoscete Ve lo consiglio Noi ci vediamo Al prossimo video Ovviamente sempre Su Addicted to games Ciao ragazzi Al prossimo video